Non vogliono la pace, io gli darò quella eterna! Non vogliono la pace, io gli darò quella eterna! Sto ricaricando! C'è segnale! Adesso andate alla radio e chiudiamo la cosa! Prendiamo la radio! Ci impossessiamo della radio! Ricarico! Cassa segnale! Estoratori sono pronti! Estoratori operativi a chi vedezza! Sta arrivando l'aereo! Se l'avete fatta, bruciate tutto! In piedi, stronzo! Te ne torni a casa! Grazie! 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 Grazie!